A pochi giorni dalla visita in Molise di Papa Francesco, l'artista Liliana Corfiati ha realizzato un nuovo murales nel centro storico di Campomarino. L'opera rappresenta il santo padre che benedice una famiglia Arbresce e si aggiunge agli altri lavori della pittrice presenti nel borgo. Il murales è stato inaugurato dopo la messa celebrata nella Chiesa Madre. Con la sua opera la pittrice ha voluto rendere omaggio a Papa Bergoglio anche pensando alla visita in programma in Albania a settembre e ricordando che Campomarino è uno dei quattro paesi di minoranza linguistica Arbresce del Molise. Ci ha dato dei messaggi straordinari come la bontà, la carità, la semplicità, l'umanità per tutti ed è un Papa veramente eccezionale. Per cui io che dipingo da tanto tempo questi murales mi sono sentita in dovere di dipingerlo, di dipingere un quadro in suo onore. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il presidente della provincia Rosario De Matteis e l'assessore comunale al turismo Anna Saracino. Un altro lavoro dell'artista Liliana Corfiati che arricchisce quello che è il nostro patrimonio turistico all'interno del borgo antico. Quest'anno è ispirato a Papa Francesco in concomitanza con la sua visita qui in Molise e per noi campomarinesi non può essere emozionante e nello stesso tempo siamo orgogliosi di avere questa ricchezza.